palazzo confezioni è alta cerimonia per uomo e donna abiti su misura da palazzo confezioni per la cerimonia e la sposa le idee che hai sempre sognato creazioni eleganti e raffinate linee ricercate e personali completate dagli accessori più preziosi ed esclusivi palazzo confezioni classe eleganza qualità fascino anche moda cerimonia per bambini palazzo confezioni unica sede a martina franca zona industriale via per mottola mercoledì 20 aprile 2011 dgn24 si proprio così dgn24 da casa vostra tutto il giorno è bella gabbata ci stai mangiando ancora un petto con la cozza bella ferma no c'è ferma è ferma continuate a mangiare basta che appazzicare questa televisione e sto chiedendo a casa vostra così macchia tutto il giorno e invece per la digestione sarà l'epoca se non sapete che si ha la replica a mezzanotte bene che stanno tutte stesse belle a settembre non quello fiore ma quello tipo stesse così bella carpa trilassata che si stanno a vedere un dgn24 ha cominciato ma che quelle notizie sono forte 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 prima notizia energia si energia rinnovabile proprio dell'energia rinnovabile l'hanno parlato a ieri a Confindustria Puglia dice che hanno mandato una lettera enorme indirizzata al ministro del sviluppo economico un ministro italiano in oeste ha detto ma grazie grazie che si è capito la notizia che aveva portato ecco un comunicato che aveva portato un certo Oettinger è stato nominato da Ceglietto da Oettinger un commissario Ue dall'Unione Europea ha detto per cortesia cerchiamo di investire bene sulle energie rinnovabili sia in Italia che all'estero non ci ha mai comprometto a nessuno di affare le cose belle carpa trilassate le energie rinnovabili servono da oggi in poi servono in tuo pianeta e come servono? però l'investimento l'ingendio deve essere acclarato fatto bene con punti chiari che non capiscono bene bene come sanno spendere soldi sia in casa nostra in Italia che a fuori mi raccomando questa è una bella notizia che mi fa respirare energie rinnovabili sono rinnovato madonna quanto è bello il TGN24 rinnovato a tarda sono parecchi giorni che non c'è la tesoreria comunale si è formato una fila forte, una calca non c'è alcuni cristiani che sono a prendere i sussidi sociali hanno un comune messo a disposizione di questa cosa per certi cristiani che hanno un problema di un vicino insomma da tarda si vede proprio che c'è una crisi forte forte a tarda questa folla superiore a quando fanno l'offerta, la maxi-offerta diciamo così alle supermercate e c'è una donna un picco di soldi per tracciare parecchi cristiani che hanno bisogno di questa cosa qua, tantamente tanti cristiani hanno bisogno che finalmente qualche duno, qualche precario che fece una domanda all'ILVA ha avuto la risposta accolta e ora ci hanno fatto esattamente all'ILVA hanno aperto l'Alto Forno 4 l'ILVA ha dichiarato, ha detto l'impianto è stato completamente rifatto e ci sono le nuove cappe di aspirazione tanto è vero che hanno fatto tutto questo nuovo che hanno chiamato pure l'arcivescovo di Taranto il benigno Papa, il Monsignor Benigno Papa che ha da benedì, ha da benedì fra qualche giorno l'Alto Forno eh, come si dice a Taranto in questi casi Dio vede e provvede soprattutto ora su Manassano provvedono più a proposito, arriva da una telefonata arriva da una telefonata in studio e gli dice poi, su un cadavano da bell'aria nostra l'inviato da Udigeni 24 che addirittura si ha che Nazza ha la sportella della tesoreria comunale parecchi cristiani e Tarantini sono a ritirare i sussidi cioè se succede da, fanno sempre qualche cosa fanno sempre innanzitutto saluti avete i soldi? non abbiamo soldi senti Franco, qua praticamente non si capisce la retta niente, non si capisce niente niente stai fermo con la mano fermi mettetemi in fila a proposito Franco un grande saluto a tutti gli amici di Facebook che stanno qua vicino a me tutti gli amici di Facebook di cose Franchetto che troverete su Facebook ma non c'è bello chiaro state fermo con la mano non ho tagliato proprio niente Franco aiuto ahhh Presidente della Regione andate a fare la spesa visto che sa chi ha fatto dei tagli ha tagliato la sanità ha detto no taglia la sanità i tagli e la sanità devono essere fatti perché c'è il problema del Mediterraneo del San Raffaele e del Mediterraneo dobbiamo parlare dei servizi che devono essere stabiliti fatti bene allora per questo motivo che se taglia tutte le cose su Mediterraneo qua vabbè taglia ma fino a un certo punto caro Nicolino nostro eh Presidente Governatore della Puglia eh non puoi fare queste cose qua eh 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 secondo me perché perché se tu devi fare devi avere questo questo ospedale grande che stai facendo fare l'ospedale grande San Raffaele del Mediterraneo a Tardo non puoi tagliare allora quelle persone che devi tagliare quelle parti che devi tagliare li devi agglomerare assolutamente nel grande Raffaele San Raffaele non puoi lasciare così le persone no vediamo qua vendola non gira più e hanno messo il termostato no per modo di dire no in una conferenza stampa quando riguarda le servizie di San Raffaele del Mediterraneo un Presidente ha cominciato a dire io voglio tutti i sindaci voglio i sindaci qua di questa provincia allora mancavano nessuno si ha presentato mancavano il sindaco di Massafro il sindaco di Palacione il sindaco di Mottola il sindaco di Castellanetti quello di Palagianello di Ginosa di Grottaglia insomma tutte queste sindaci qua non ci stavano proprio ci sono presentate proprio e allora questi qua rimasti e come devo fare con chi devo parlare tu hai parlato così a favore fanno delle lettere veloci e tutti questi problemi della taglia di Castellanetti e poi ci dovrei partire a fare la scena e qui tutti a diaglio di Massafro non si può fare mi dice che risolviamo questi problemi e agglomera tutto secondo me nel San Raffaele dilla per lì per lì per lì per lì per lì per lì che qui non parliamo a me che i tarantini come a me capiscono a me Michelo e chi è Cristiano come stanno a sbattere? chi è la lama San Vito e Talsone le famose tre terre che fanno l'autonomia indipendente proprio per avere un comune autonoma da così le tre terre non c'è passata la legge per un referendum dice che non si può fare il consiglio comunale tutto spaccato dice che se la maggioranza è spaccata sono stufata qua l'ordine del giorno ha detto non si può fare proprio niente come hanno aperto l'ordine del giorno hanno aperto la pagina l'ordine del giorno tre terre nesba giustamente la protesta romana è forte e poi c'è pure il comune si dice facciamo una cosa mercoledì prossimo vediamo tutto quanto che hanno risolto questo problema che hanno dato 45 milioni d'euro a franca cosa ma ancora a franca cosa all'OSL è nata si l'organo che ha controllo la DIP la RASC che ha tenuto un dissesto da quello che ha succedito ma è nata di bella non è nata di bella ho aggiunto la comunale che è stata nata di bella bella di bella veramente bella 45 milioni ma praticamente ha rimasto solo un'od delle bocche che si deve discutere e poi tutto a posto dopo le 45 milioni bocche e via ci facciamo tutte bocche perché in effetti è orario di mangiare a me che si va a coppa perché? non è successo non è successo proprio niente a ieri proprio niente 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 è successo solamente un'auto pirata una macchina pirata da piccata in piedi un guagno che la bicicletta l'ha fatta su un bainare non c'era sull'aplano ma proprio non l'ha fatta niente a ieri sono state bruciate tre macchine tra Tarante e provincia tutto sommato pur per la cristiana è successo niente un maxi sequestra brutto è successo dei falsi ton non solo ton mi parecchi mi stanno a tele per franco lo ton perché dici casualmente su apparecchi edicoli hanno anche un giornale con un foglio di grano di un giornale che è hanno scritto anziché ton t h u n hanno scritto sequestrati falsi ton allora la cristiana io leggo ton e la cristiana pensa c'è la ton che hanno sequestra c'è ton non c'è solo ton le ton le ton sono chiedendo i pupazzetti che sono cinese che la fanno da e l'hanno frappare diciamo così a umma a umma e hanno stato sequestrati ma in Dall'Weston qualche imprenditore martinesi a Martena hanno fatto questo bruci d'idea si hanno messo d'accordo ma tutti sono morti non è successo proprio niente l'ultima cosa nulla è successo l'assemblea di Bevagna è stata multata ha avuto una brutta denunciata forte poi ci hanno chiesto 2000 rete in Dall'Amagan 2000 rete ma quindi come si ha ascoltato che teniva la borsa delle lezze suose di lì si ha ascoltato in Dall'Amagan e si è accoltato le sacci di cosmo c'è cosmo si ha misa chiesto forte si vede che la finanza l'ha sentuta l'ha sentuta l'hanno guardata si ha fatto la rete proprio l'ha sentata e ha pagato una capa molto salata e tu e porti a casa una fiata c'è te critica non è successo niente volete sbariare? volete sbariare? no io me la piacevo di cui da film stasera mi sapevo proprio camerebucco non sono partito non si è detto mia moglie si è venuta così ho fatto che si è venuta per Emilio Solfrizi e Belen Rodriguez il bel mondo c'è una bella coppia tutte e due quelle che si è venuta successo forte 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 quelle che si è venuta con la moglie di corone e quei Emilio Solfrizi non è un bel mondo un bel mondo un grande amico forte forte con quella di noi Madonna mia un film forte e anche questa cosa la provina la piacevole se sei così ti dico sì però attenzione da oggi parte la campagna forte forte nei confronti dei Pasquetti la città è chiaro che non abbiamo fatto una santa facemola con tutta la riflessione possibile con la passione giusta religiosa bella da Tarantino però io che ho cominciato avevo organizzato il giorno 25 volete sbariare il giorno 25 da me sto qui qua la band che fa l'uso d'ala la canzone chissà poi cugine mia Aldo va sconnessi da band insieme a me tutte e due insieme sto pensando a te sto pensando a Pasco Rosso forte forte e poi c'è un Giancarlo Coppola un DJ che mette quella musica che mi faceva un pazzino proprio tutto bello mi faceva che non si senteva da un sacco di dimenti che attuale forte forte e forte insomma ce n'è per tutti la venita da vedo con un numero di telefono 334 34 25 2 2 1 si telefonate e risponde la signora a Masseria Galeuta Masseria Galeuta 25 da Pasquetti volete sbagliare? no portatevi la scarcella che noi vi suoniamo la scarcella a voi parliamo del ballone Udardo Nuestro lui dice non c'è stata tanta serena della faccia a me si un cuore misto è un po' che scattato può fare che ha da dare se stai stanco un po' se stai stoffo ha detto io mi sono seccato allora a parte un fatto che ha raggiunto una multa di 1500 euro dice che hanno lanciato le petarde da qua senza conseguenze però chi è buono non sa nemmeno ma la cosa più brutta è che ho stemmato proprio in terra la Carpuno come umore da Presidente e ho fatto delle fuorisede un caso della fuorisede nostra se non si risolve quel problema con questo Stato che hanno messo l'astra nella ruota la diffusa che stanno fuorisede oh oh ma se ho fatto mi stai facendo un po' così se non altro sempre forza tardi e che vi devo dire ieri mi è vista la partita Roma-Inter fa che mi scappa la mogliata comunque alla fine sta asciutto per che avesse non lo so aspettiamo un ritorno poi se ne parla comunque forza tardi quello è sempre eh se no che devono vivere i pifosi a casa che devono vivere arrivederci 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 a Tumon alla stessa ora mi raccomando TGN24 bella questa notizia bella bella per modo di dire qualche di uno è stato bella qualche di uno non ci ma piace non ce l'ha ebbè bisogna ascoltare tutto bisogna essere forti pronti a qualsiasi apparenza sempre che usano i smoke a Cussiva Polk a Franchetta West un bacio forte un bacio a Domenico Corizzi una grande amica miglia sempre fatica bella nella sala computer quando è forte Giancarlo Coppola un altro ugnuno che faceva la stessa cosa che è forte forte e scorre e screcci e mette a Domenica da 25 a Pasquette ma se regalii un ucce paghiatici grazie a tutti c'è una comitiva della Salenella ugnuno Girolamo Cataldo Giovanna e Federica tutte quattro quattro siete belle grazie che mi avete detto forte un decennio e ventiquattro d'ogore mio d'ogore fu d'ogore fu ogni tanto mi è messo una cosa aspettata che mi mette una a scappare d'acqua arrivederci Grazie a tutti